Buongiorno a tutti. Di recente ho pubblicato sul mio blog le regole del gioco Guelfi Bianchi e Guelfi Neri, un gioco molto semplice che ho pensato per il Dante D. Ho sperimentato in due classi, devo dire che i ragazzi si sono divertiti abbastanza. È un gioco che può genericamente ricordare Dante e la sua vita, o può anche trasformarsi in gioco didattico nel momento in cui si spiegano ai ragazzi i collegamenti tra i personaggi del gioco e la vita di Dante e magari anche le differenze tra il ruolo che hanno nel gioco e il ruolo che hanno avuto nella vita del poeta. Per quanto riguarda i materiali serve un semplice mazzo di carte francesi, quelle che vengono usate per il poker o per scala 40. Il gruppo di giocatori deve essere molto numeroso perché deve dividersi in due squadre, i Guelfi Bianchi e i Guelfi Neri. Come vedrete è abbastanza simile a Lupus in Tabula se non per il fatto che è ambientato nella Firenze dei tempi di Dante. Ai Guelfi Bianchi vanno distribuite carte dal seme rosso, ai Guelfi Neri le carte dal seme nero. Però con l'accorgimento di includere le seguenti carte speciali. Il re di Quadri è Vieri dei Cerchi, il capofazione dei Guelfi Bianchi. Il re di Cuori è l'imperatore Enrico VII nel cui arrivo Dante sperava ardentemente. La regina di Cuori è la famosa Beatrice. Il fante di Cuori è proprio il nostro Dante Alighieri. Passiamo ora allo schieramento opposto con il re di Picche che rappresenta Corso Donati, il capofazione dei Guelfi Neri. La regina di Picche è Gemma Donati, cugina di Corso Donati ma anche moglie di Dante Alighieri. Il re di Fiori è Papa Bonifacio VIII. Il fante di Picche è Forese Donati, fratello di Corso Donati e carissimo amico di Dante. A piacere potreste sostituire il personaggio di Forese Donati con Guido Cavalcanti, che era un Guelfo Bianco. Ma è stato anche mandato in esilio da Dante, quindi in questo gioco potrebbe trovarsi nello schieramento opposto a quello del poeta. Ora che avete conosciuto le carte, le carte speciali, passiamo allo svolgimento del gioco. Ogni fase dura 10 secondi. È meglio individuare qualcuno che effettui un conto alla rovescia. Durante questa fase ciascuna delle due squadre deve decidere quale membro dell'altra squadra mandare in esilio, escludendolo dal gioco. Ovviamente, almeno in una prima fase, il gioco è totalmente alla cieca, perché all'inizio nessuno sa quali carte abbiano in mano i giocatori della squadra avversaria. Se i giocatori prescelti per l'esilio, al termine di ogni fase, hanno in mano una carta qualsiasi, semplicemente escono dal gioco perché devono andare in esilio. Ecco invece cosa succede se per caso vengono scelti dagli avversari dei giocatori che hanno in mano le seguenti carte speciali. Se i guelfi neri scelgono il guelfo bianco che ha in mano questa carta, beh, questo significa che è stato esiliato niente meno che Vieri dei Cerchi, il capo fazione. Questa è un'automatica vittoria per i guelfi neri. Se i guelfi bianchi, per caso, hanno scelto il guelfo nero che ha in mano questa carta, questo significa che è stato esiliato Corso Donati, il loro capo fazione. Questa è una vittoria automatica per i guelfi bianchi. Se viene scelto il re di Fiori, cioè il papa Bonifacio VIII, i guelfi bianchi sono scomunicati e saltano un turno. Se viene scelto il re di Cuori, ovvero l'imperatore Enrico VII, sono i guelfi neri a dover saltare il turno. Se viene scelta la salvifica Beatrice, beh, lei rimane in squadra e se qualcuno dei guelfi bianchi è stato esiliato, lei può richiamarlo dall'esilio e farlo tornare in gioco. Solo uno per volta, naturalmente. Se viene scelto il nostro Dante, oppure sua moglie Gemma Donati, essendo una coppia sposata, devono patire entrambi le conseguenze di questo ostracismo e quindi se ne vanno entrambi in esilio, anche se è stato scelto uno solo dei due. Se viene scelto Forese Donati, oppure Guido Cavalcanti, così come avete deciso di identificarlo, nell'andare in esilio sceglierà un guelfo bianco a suo piacere da portare in esilio con sé. Naturalmente, se il guelfo bianco in questione ha in mano una delle carte speciali, l'effetto della carta si attiva. Come abbiamo già spiegato, vince la squadra che riesce ad esiliare il capofazione avversario. Questo spesso comporta vittorie molto rapide e la possibilità di ripetere il gioco più volte. Nel caso in cui scegliate di rendere il gioco ancora più rapido e di dare un limite di tempo, a tempo scaduto vince la squadra che comunque ha eliminato più giocatori avversari. È un gioco semplice, può vedere il determinarsi di diverse situazioni impreviste. Per i ragazzi, ripeto, è stato divertente ed è sicuramente un modo molto gradevole per divertirsi durante il Dante Dì e ricordare la situazione vissuta da Dante nella sua città natale. Se avete domande, naturalmente, potete scriverle nei commenti. Spero che la spiegazione sia stata chiara. Buona giornata e buon divertimento per il prossimo Dante Dì. Grazie.